Allora, il momento della premiazione al miglior telefono, vediamo le nomination, sempre iniziamo con la giuria, che fatica, mi sento per te, Criminal Mind Stefano Brusa, non è vero, Suspect Viabrio, Falling Skies, CD Massimo Lodolo, Fringe, Sefit CDC, Ordinary Family, Dabbing Brother Stefano Mondini, The Good Wife Cast Massimiliano Alto, The Guard ETS Massimo Corvo e True Blood PRK Giorgio Lucuragutolo, Teo Bellia. The winner is The Ordinary Family, ritira il premio Stefano Mondini. E' già qua, è già qua, e filmato, ma perché fai boppato? Firmato, filmato, filmato. Che mar di reni. L'ordine di Fabio Mamma mia, un applausi Mamma mia Ok Facciamo pure entrare il premio La targa Fai una domanda sempre Hai il primo premio Che ti viene riconosciuto come direttore Di doppiaggio Prendi il microfono Sì, è il primo premio in assoluto Aspetta che vogliono vedere la targa Grazie Permettetemi di fare dei ringraziamenti Intanto alla giuria Grazie tantissimo di questo premio Per me è un riconoscimento Molto molto importante Perché è la squadra che vince Quindi devo ringraziare la mia assistente Francesca Lucchese Barbara Bregant per i dialoghi La Dabbing Brothers Per diciamo L'appalto L'appalto E poi ai protagonisti della serie E a tutti coloro che hanno partecipato a questa serie E che hanno convinto la giuria a darvi questo premio Li ringrazio tutti senza fare i nomi Perché altrimenti veramente dimentico qualcuno Grazie Allora facciamo un altro grande applauso A Stefano Mandini E che sia il primo di una lunga serie Speriamo Allora in bocca al lupo a Stefano Grazie Stefano